Geniale tentata rapina da parte di una banda di improvvisati ladri muratori, per così dire, a Palermo. In quattro, muniti di un camion attrezzato per il cosiddetto lavoro del muletto, ovvero con gru per il traino e il carico pesante, hanno pensato bene di rapinare il Bancomat della filiale Unicredit, ex Banco di Sicilia, di Via Libassi a Palermo. Qualcosa però, o forse più di qualcosa, è andato storto e trainando via lo sportello Bancomat hanno portato con sé l'intera parete di ingresso della filiale bancaria. Il mezzo non ha resistito al peso e al lavoro e si è guastato lasciando i ladri a piedi, proprio mentre l'enorme frastuono svegliava gli abitanti della zona, che essendo le tre di notte hanno pensato a un terremoto o addirittura ad un crollo. Giusto il tempo di affacciare a finestre e balconi per vedere i quattro con i volti coperti, abbandonare il camion e lo sportello Bancomat con l'intero bottino e dunque fuggire a piedi. Quella che vedete è la scena che si è presentata alla polizia al momento dell'intervento. Più che una tentata rapina, sembrava che si fosse abbattuta una bomba sulla filiale bancaria. Sono in corso indagini per risalire ai ladri maldestri, due dei quali, sembra, siano già stati identificati.